Gingolo colpito! Corazzato nemico danneggiato! È rimbalzato! L'abbiamo preso! Veicolo nemico distrutto! Perfetto! 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 Li abbiamo danneggiati! Li abbiamo danneggiati! Perfetto! C'è entrato! Perfetto! 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 Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Perfetto! 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 Sforazzato nemico danneggiato, gli abbiamo dato fuoco! Peccato! C'è entrato! Siamo immobilizzati, possiamo andare! Corazzato nemico danneggiato! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico distrutto! Bel colpo! Centrato! Centrato! Li abbiamo danneggiato! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Centrato! Centrato! È rimbalzato! Peccato! L'abbiamo preso! Centrato! Veicolo nemico distrutto! Centrato! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.